Rionione questa mattina della Commissione Welfare presieduta da Maria Caniglia per fare il punto sull'emergenza freddo e sul piano da attivare in città alla presenza degli operatori delle strutture di accoglienza sul territorio. L'incontro è servito ad evidenziare la necessità di potenziare la disponibilità di posti letto per i senza fissa dimora ed intensificare i servizi di assistenza anche attraverso l'apertura straordinaria delle stazioni della metropolitana. Sono più di 1700, stando alle ultime rilevazioni, le persone che vivono in strada in condizioni di povertà estrema. Non tutte riescono a trovare ospitalità presso l'ex dormitorio pubblico in via dei Blasis e nei centri La Tenda e Sant'Antonio La Palma. Questa mattina in Commissione sono iniziati i lavori per istituire un piano di emergenza freddo per le persone senza fissa dimora. La Commissione ha dato degli indirizzi che sono quello di implementare il numero dei posti letto, prevedere un calendario dettagliato delle attività poste in essere dalle unità di strada, nonché cercare di avviare un percorso con ANM per l'apertura di alcune stazioni metropolitane nei posti più critici della città. Per fronteggiare le situazioni climatiche più critiche il Comune è già al lavoro per l'attivazione di una casella di posta a cui segnalare le emergenze ed intensificare i servizi offerti dalle unità di strada attraverso la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità.